La banda larga quale strumento di sviluppo rurale. La Regione Abruzzo coglie questa importante opportunità. Il via libera della Giunta regionale alla misura 3-2-1 del PSR, finalizzata a sostenere ed incoraggiare l'adozione e la diffusione delle tecnologie di informazione e comunicazione nei territori e nel contesto produttivo rurale, per migliorare la competitività del sistema delle imprese e lo sviluppo delle aree più marginali. È una sinergia tra l'assessorato allo sviluppo economico e l'assessorato all'agricoltura, dove i 3 milioni messi a disposizione dal PSR divendono 10 milioni con un accordo di programma stipulato con il Ministero dello Sviluppo Economico. La società in aus del Ministero Infratella, assieme alla Regione Abruzzo, cercherà di arrivare in quanti più comuni possibili l'adozione della banda larga per diminuire quel divario non solo digitale ma anche effettivo tra i piccoli comuni e la grande realtà cittadina. Alle soldi del terzo millennio credo che anche il mondo della ruralità e le zone interne hanno bisogno di quegli strumenti per combattere, chiamiamo così, tra virgolette, il mondo della globalizzazione, quindi la banda larga al servizio delle aziende rurali interne e delle popolazioni rurali.